Musica Quando va il gasto all'ardo, che ci lascia lo sanibì? Eh, ti ricordo, guadalè? Eh, ti lo ricordo se uno avrei detto di andare, fin quando viene preso non la devo rubare, non la devo rubare dai dai, fin quando che sei il tuo sorberto? questo parcelletto ciao 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 insomma non fa a crossover, a femenelle non pure, mettero i base aiuto qui io ne puo' entender sono 3 sience 3 attracco, si deve vedere che mi metterò tutti i base e laiciasc車 non puoi over e rull quando il gatto è scosto, si sorge bolla che significa? che significa? che significa, il padre si sveglia e tutti i operai sono bella se ne vanno giudici se è corso il giusto che il vostro padre è per te indiano, come va? però non indiana indiana ma com'è? indiana? sì, però non indiana non indiana ma come si fa? indiana? sì, indiana, però non indiana se c'era il fatto portava a calcio il gatto indiana, indiana però indiana non c'è scendere a sporcare allora tantomeno c'è che mi ha detto ma ci aveva pensato che ero più fresco no non c'è non c'è non c'è non c'è è bello che è il tuo profante ecco la gente a spesso ciao bello che vuoi fare il sugo che se tu vuoi sembrare bello però deve lavorare ti deve dare da fare perfetto perfetto non c'è c'è che gli antichi marzo se piove piove aprile che non manca e maggione è buona sarebbe marzo che non piove aprile che non manca e maggione è buona in italiano diciamo la conversazione amici e compagni parliamo di chi è diciamo questa battuta qua sul fatto diciamo di essere delle mandorle sando lei vedo la mandorle c'è ieri sarebbe l'11 aprile sando lei vedo la mandorle c'è ieri ok l'11 aprile vedo le mandorle vicino all'albero e quali sono le mandorle adesso non puoi vedere niente certo io vedo la pagnata e sempre la cacchiere perché sempre la cacchiere perché è la cacchiere che mette di bene la cacchiere l'acqua c'è un anno a parte in giro stessa che no moon cioè pagano in e mumò se ma muta lui dieci muo per diventare noi che non non è un paio si scarrona dentro l'acqua l'acqua mamma mosa mi arrete pure perfetto Si deve immortalare, ma come ne vado a dire? Mario, se vado a lui non vado a dormire se non chiudo la porta. Vado a dormire e vengo a piangere. Il proverbio devi dire, questi sono i dominelli. Allora, mi devi dire, si cammina la mattina con te i campi, si cammina a mezzogiorno con te i campi e l'altro con quattro. Come lo dici tu chiesti. Come lo faccio? Come lo faccio? Io gli ho dipinto di far saltare. Ok. Tre ciponi e tre cipocci. Ecco. Ciponi e tre ciponi e vado a dormire. Ti va piano, passare e vado a dormire. Ciponi e vado a dormire. Prendi e vado a dormire. Ciponi e vado a dormire. Lai la gioventù non è che mamma che muovo anno. No, non c'era il mio padre, ma non c'era il mio padre, non c'era il mio padre, non c'era il mio padre. Se non c'era il mio padre, non c'era il mio padre, perché effettivamente il mio padre è fascista. Da una volta erano buoni, dall'altra volta erano bravoli, perché c'era molto severa. Ok, grazie. Diceva un vecchio amico, Vito Soffrizzi, un detto che credo molti conversanessi ricorderanno, ed era questo, Spitz-Rutron, Fes, Pochett-Sindromes. Perfetto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Getto. Grazie. città